Ciao amici, oggi facciamo una ricetta strepito, ciao! Facciamo i chili alle noci, una ricetta semplice ma vi assicuro, buonissima! Dentro una ciotola ci mettiamo la farina e la fina rezzia e la confezione di valet impanziamo con le mani ci mettiamo mezza bicchiere di latte mezza bocchina di limito e un pizzico di sale a questo punto aggiungiamo un trollo adesso impazziamo facciamo 6 palline di 150 grammi ecco le mie palline! prendiamo una alla volta e le tendiamo queste le mettiamo da parte tendiamo l'impatto intanto prepariamo l'impieno mettiamo le noci mettiamo 2 abumi mettiamo 2 abumi mettiamo 2 abumi aggiungiamo 3 abumi aggiungiamo le noci fritate aggiungiamo le noci fritate prendiamo 2 abumi prendiamo questo all'angoletto e lo grudiamo così prendiamo questo e tarciamo la punta ecco la punta ecco il fatto li mettiamo in forno ecco i miei crigni li mettiamo in forno mettiamo in forno mettiamo in forno mi raccomando quando li fate mettete poco ripieno se no essere fuori e aspettate che siano ben feli ecco i miei crigni agli luci grazie per il like un bacio da Saffarola